Amici sportivi di Dazon, benvenuti allo stadio piccolo dove tra pochi minuti si sfideranno Napoli come women. Match valevole per la sesta giornata della Pola Salvez della Serie A eBay femminile. Pronto il calcio d'angolo per il Napoli, dentro a cercare... Dele Stal! Che schiaccia di testa, la palla rimane lì. Poi l'arbitro ferma tutto per un fallo in attacco del Napoli. Palla dentro di nuovo a cercare i centimetri delle Stal. Poi Banusic ha cercato di coordinarsi e calciare, riesce a difendere bene il pallone. Ancora Banusic, una serie di finte, va fino in fondo che apre sulla corsia di destra per Banusic. Banusic difende la palla, poi prova a convergere. Ancora Banusic guarda la porta, prova a calciare con il mancino centrale per impenserire Gilardi che blocca la palla a terra. Continuamente ripartire poi per ricercare altre soluzioni che ora trova sulla corsia di destra con questa gran giocata di Banusic. Banusic entra in aria, scambia benissimo con Dele Stal! E poi realizza una grandissima rete, ma è tutto inutile perché Banusic è in offside al momento della palla di ritorno di Dele Stal. Cato per Banusic che non è riuscita ad essere in posizione regolare, correre in maniera regolare a causa del colpo subito precedentemente. Intanto Banusic si scatena sulla destra, entra in aria, Banusic, Banusic con il sinistro, ancora una volta centrale. Deve aspettare che Monnecchi esca definitivamente dal campo per permettere poi a Melania Martinovici di fare il suo ingresso in campo in questi ultimi due minuti del primo tempo. Un po' più tutta la ripresa da giocare Rizzon in verticale per Skorvankova che supera Pettenuzzo, poi entra in aria. Dentro per il destro vincente di Martinovici appena entrata come in vantaggio con questa grandissima azione di Skorvankova sulla corsia di destra. Lo scarico perfetto per Melania Martinovici. Grande azione di Skorvankova che supera Pettenuzzo e poi trova nell'aria piccola, nei pressi dell'aria piccola Martinovici che non sbaglia da pochi passi e porta in avanti la formazione di Makoppi. Ancora Caglian. Angolo battuto dentro per Cox che ci arriva di testa ma non riesce a impattare con potenza. Skorvankova dentro a cercare sul secondo panno una compagna che non trova. Poi ancora Como con Rizzon che prova la girata nei pressi dell'aria piccola. Compagne e giocatrici, le proprie giocatrici insieme allo staff tecnico. Pellingheli recupera palla, poi Gianfico appena entrata. Dentro per Dele Stal, Dele Stal, dentro per Banusic! E arriva il pareggio del Napoli con un euro-goal di Banusic! Il terzo di questo campionato che si coordina alla grande e con il sinistro trafinge l'estremo difensore del Como. Con Dele Stal che entra in aria, guarda dall'altra parte l'arrivo di Banusic che ha il volo di sinistro. Non lascia scampo a Gilardi. E finalmente Banusic festeggia il suo primo gol su azione. Si ripete dopo il gol realizzato su punizione al Pomigliano con questo grandissimo sinistro. Dopo questa ultima azione però l'arbitro dice che può bastare così. Si finisce lo stadio piccolo con il Napoli che riesce a pareggiare al 79esimo minuto al gol di Martinovic con Banusic. E dunque Napoli tiene a debita distanza il Pomigliano con un vantaggio ancora di 4 punti in classifica.